Scusate Ah ma quelle le ha prese le sand fly ma secondo me quelli non sono, spero che non siano sensuali sennò mi cago ad osso sai che io sto registrando tutto quello che diciamo cago ad osso bel culo, dopo toglierò l'audio da questo video, lascerò solo le immagini con la musica di sottofondo 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 la musica di sottofondo